Sono stati 21 i volontari del Servizio Civile Universale impegnati nel progetto consapevolmente nella rete, volta ad indagare l'utilizzo di Internet e dei social network da parte di 1.248 cittadini della zona sociale 7. Gli intervistati sono stati divisi in 5 fasce d'età, 12-14 anni, 17-19, 24-29, 35-50 ed over 55. In ogni fascia d'età la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di utilizzare una connessione Internet con ore giornaliere che dai 12 ai 29 anni vanno per lo più dalle 2 alle 4 ore. I più moderati risultano coloro che dai 35 arrivano fino agli over 55, che dichiarano di non superare le due ore giornaliere di utilizzo. A variare tra le varie fasce d'età è l'utilizzo. Soltanto gli over 55 utilizzano la rete principalmente per informarsi. In tutti gli altri, invece, prevale la funzione dello svago e della comunicazione. La maggior parte degli intervistati, dai 12 ai 14 anni, utilizza Internet per chattare, grazie alle app di messaggistica istantanea come WhatsApp e Messenger. Per quanto riguarda i servizi, dai 17 ai 50 anni tutte le fasce d'età utilizzano la rete soprattutto per gli acquisti online, con il picco più alto del 43% tra i 17 e i 19 anni. Parlando di Internet, centrale, diviene l'utilizzo dei social network. Il più usato è WhatsApp. Dei 17 ai 19 anni cresce l'uso di Instagram, con Facebook che tra di loro è in calo. Tra i 35 e i 50 il più usato è invece Telegram. Parlando di social, soltanto il 62% dei genitori intervistati dichiara di sapere se il proprio figlio è presente in uno di essi. Quando si tratta di minori, ad importare è soprattutto l'utilizzo dei dati personali, il rischio del bullismo online, definito appunto cyberbullismo, e rischi connessi alla sessualità. Il 20% dei giovani ha ricevuto messaggi con riferimenti sessuali e più del 10% ha ricevuto foto di persone conosciute online nude, mentre solo il 4% le ha inviate. Centrale risulta dunque il ruolo dei genitori, che dichiarano di supervisionare l'attività online dei propri figli per la maggior parte dal proprio profilo personale. Parlando di eventi spiacevoli nel web, il 97% tra i 35 e i 50 anni conosce i rischi di internet. Per fortuna la percentuale maggiore degli intervistati non ne è stata vittima, ma tra quelli a cui è accaduto, tra 17 e 19 anni, la maggior parte ha subito truffe su prenotazioni o acquisti.